Il 28, il canale di Technoblade ha compiuto 9 anni Quindi se noi andiamo proprio nella lobby principale di Apixel E andiamo in teoria di qua E per questo traguardo Youtube, il canale ufficiale, ha caricato un video tributo per lui Voglio reagirlo con voi, io non l'ho visto Inoltre è uscito anche un video al quale Technoblade aveva partecipato Sul canale di MrBeast, fatto uscire sempre lo stesso giorno Altro, io qui ve lo giuro è un caso Avevo il pet del maiale, ciao bello Apixel ha raccontato che il libro è stato completamente ultimato L'hanno mandato all'editoria per farlo appunto stampare, fatto bene eccetera eccetera E poi dopo la famiglia lo riceverà E ovviamente aggiorneranno su questo Io sono veramente un sacco contento di vedere che questa cosa Non è soltanto un fenomeno del momento per parlarne Ma che effettivamente stanno confermando il fatto che Lui nel suo modo ha effettivamente cambiato Youtube Nella zona sinistra dovrebbe esserci Qui ci sono ok tutte le patate di Technoblade Di qui anche E qui era... eccolo qui Eccolo qui Che bello Bellissimo Molto 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 bello Questo è tipo un fiocco Messo appunto in onore dei suoi nove anni su Youtube Che aveva compiuto proprio meno di una settimana fa raga Bellissimo, bellissimo Inoltre Cercando Technoblade Oltre che appare il video di fanpage Cioè pure fanpage ci ha fatto un video sopra, assurdo Appare appunto il video che ha fatto MrBeast con lui Dove tra l'altro l'ha messo in copertina Ma se leggete la descrizione c'è scritto Technoblade Never Dies E Rip Technoblade E questo video ha anche questo qua La raccolta fondi Fatta apposta proprio in suo onore Ma sul canale ufficiale di Youtube appunto tre giorni fa E' uscito il video Technoblade Never Dies Che ha già quasi 10 milioni di visualizzazioni E sono un botto curioso di vederlo Dalla preview vedo il video di MrBeast Quindi secondo me è una sorta di compilation dei suoi video Però questo non lo so Il video purtroppo è in inglese Quindi cercherò di tradurre qualcosina Ok E partono dal fatto che se cerchi la frase Technoblade Never Dies Ti appaiono tutti i risultati Di persone che appunto hanno fatto video in suo onore La skin di Gabby questa Hanno messo la clip di Gabby Lui caricò uno shorts su Technoblade Ok Ok Stanno parlando un po' di come era lui Bello Questo qua è il trailer L'avevo visto L'avevo visto quella clip nel trailer Bello 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 Ah quindi analizzano tipo come è nata la frase Del Technoblade Never Dies Primo video caricato nel 2013 Quando aveva 14 anni Technoblade Ed era un video Oddio che voce piccola Che voce piccola Tra l'altro io quel video l'avevo anche visto Ok Ok quindi 2017 Questa è stata la prima volta che questa frase è stata detta in assoluto Aveva già 141.000 iscritti Qua vedo Comunque che figata hanno fatto proprio le cose fatte bene Tipo nel periodo quante visual aveva il video Quanti iscritti aveva a quel tempo I like Che figata Sto video è tipo una sorta di Di memoriale Ok Che figata Che figata Che lo ripetevano giustamente Skeppy ci ha fatto un botto di video insieme a Techno Bello Sto video l'ha rifatto anche Kendall Un botto un botto figo Kendall Pure quando l'ha rifatto 2019 raggiunge il suo primo milione E ha fatto Il video speciale E beh Dream SMP E poi dove hanno fatto la storia Bello 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 L'altro manca a farlo apposta Dentro la Dream SMP Questa era la sua storia Bellissimi video fatti così I video animati delle loro fight Sulla Dream SMP Sono qualcosa di spettacolare Se non li avete mai visti Li dovete per forza recuperare Beh l'uno vi uno che ha fatto la storia con Dream Con 100.000 dollari in palio E ha pure vinto Ha pure vinto Bellissimo Bellissimo Fatti in quanto? In un anno Ha fatto 7 milioni di iscritti in un anno Tecnoblade Tecnoblade Non è mai morto Ma se mi metti la parte tutta emozionale così Eh qui è quando appunto lo ha detto nel 2021 Che bel disegno Bellissimo 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 Che bello Ma io non lo sapevo Hanno buildato Un Tecnoblade gigante Ma che figata Io non lo sapevo Bellissimo 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 Apparedo On Tecnoblade YouTube Ciao Io sono Tecnoblade Tra l'altro poverino Lo hanno Ciempito di insulti Tecnoblade aveva un modo di scherzare Molto molto pesante Stile black humor Quindi faceva molte battutine Anche nei video dove ha fatto Dove raccontava quello che aveva E ovviamente Anche il padre E dopo che Dream è uscito la faccia Dream insieme al padre Hanno fatto una live Dove annunciavano Che appunto il 28 Ci sarebbe stato questo video Da parte di YouTube Durante questa live Che è durata un'ora e mezza Hanno fatto delle battute Specialmente il padre Che raccontava degli aneddoti Fatici col figlio Dove scherzavano Come faceva Tecnoblade stesso Anche sulla malattia che aveva E la gente Lo ha massacrato di insulti Se lo sono proprio magnato Poverino Senza capire che appunto Era il suo modo di scherzare Bellissima questa animazione Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ah L'ho visto pure questo video Bellissimo In un giorno 125.000 commenti Con la frase Tecnoblade Never Die Bellissimo Cosa? Tutti i video Nascosti Che erano Non in elenco Di Di Tecnoblade Ma Sta roba non la sapevo Quindi ora ci sono Tutti i suoi vecchi video Che bello Spettacolare Sto video comunque Questo è un video Memoriale E fatto Di Cristo A tutti gli effetti Bellissimo video Tra l'altro Questa è la clip Di Gabby Che hanno messo dentro al video Cioè Era quello il video E questa la clip E quella Che è identica Penso sia Proprio il suo video Che figata Tra l'altro Io ho acquistato la felpa di Tecnoblade Però purtroppo è a lavare Se no me la mettevo per sto video E questo appunto È il video In memoria di Tecnoblade Che teneva nascosto Mister Beast Con appunto questo Mega Battle Royale Tra 100 youtuber Che figata Io raga ve lo dico Ho cercato Io ho cercato server Che avessero qualcosa del genere Perché io volevo fare un video Del genere Di questo Però a quanto pare O sei Mister Beast Che te lo fai fare Dei developer Oppure non lo trovi Disponibile in giro Perché un video del genere Lo volevo fare Che figata L'animazione delle chest Vabbè Ma non è questo Quello che ci interessa Quello che ci interessa È che appunto C'è anche lui E lui aveva Proprio il suo team Vediamo un po' Che era George Not Found Dream Ho visto E Wilbur Penso sia Wilbur Che è morto Che figata comunque Che è stato fatto In questo modo il video È fatto parecchio bene L'hanno distrutto Ma che figata è Che hanno fatto il video In questo modo Ma non ti dico Si stanno massacrando Oh No Hanno ucciso Tecno Insomma Peccato Ti immagini che figata Che vinceva pure Dentro sto video E nulla signori Che dire Mi raccomando Lasciate un bel like Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Se vi è piaciuto Cosa ne pensate Di tutto quello Che abbiamo visto In questo video Ci becchiamo domani Alle 14 Con un nuovo video Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti